Ciao ragazzuoli, secondo video della giornata dopo Good Morning Milan, questa volta voglio fare qualcosa di un po' diverso. Diciamo che lo spunto me l'ha offerto un articolo, meglio, una dichiarazione che ha rilasciato ieri Federico Di Marco dell'Inter, il quale ha detto pacatamente la seguente frase, vinceremo lo scudetto, non ce n'è in sostanza per nessuno. Ebbene, la cosa mi ha fatto pensare, anzi mi ha fatto dire dentro me stesso, povero sproveduto, nel senso che uno lo può anche pensare, ma è assolutamente sconsigliabile esporsi così perché si pressa il fianco poi ad essere accoltellati laddove la cosa non dovesse andare bene, e chiaramente accoltellati a livello figurativo. Ma questo fa parte un po' anche dello spirito interista, diciamoci la verità. Interisti noti come Barusha hanno proprio nella loro personalità fatto spesso di fare i cosiddetti fenomeni. E noi milanisti invece forse anche siamo troppo timidi solitamente, tendiamo sbagliando ad abatterci tremendamente, e al tempo sesto dobbiamo cercare di fronteggiare questi fenomeni o gufi sul milan che sfottono, che si credono appartenenti alla squadra più forte del calcio nella storia, eppure si deve sopravvivere, no? Noi dobbiamo sopravvivere. E allora ho pensato di fornirvi quelle che possono essere quattro chiavi, quattro trucchi, per sopravvivere all'interazione con fenomeni e gufacci, ad uso vostro dei milanisti. Ve li propongo perché sono quelli che di solito uso io e che mi hanno sempre portato ottimi risultati. Allora, prima regola aurea, regola numero uno, trucco numero uno, assolutamente se vi capita all'ufficio, al lavoro, al bar, mentre siete con gli amici di assistere a un fenomeno, un attacco da parte di un gufo, non incazzatevi. Cioè, se sentite dire, ah ma siete una squadra di M, l'Inter è fortissima, vi diamo 50 punti di vantaggio, poi può anche essere, però voi dovete vivere la cosa, tenetevi le, le, mordetevi le guance, pensate a qualcosa di grottesco e surreale, non lo so, di Mario che va a fare la missione diplomatica in Ucraina, o cose di questo tipo, ma non cadete nel tranello, perché è una provocazione, perché poi se reagisci, allora li dicono, eh ma cosa fai? Comunque ti esponi, no? Vai a creare inutili, inutili disguidi e cadi nel loro tranello, perché loro vogliono far innervosire, vogliono provocare, vogliono, vogliono poi, come infierire, laddove poi andasse male la cosa. Perché loro non hanno queste strategie di solito, chi fa così non conosce queste strategie che sta dicendo. Quindi prima regola, non incazzarsi. La seconda regola è assolutamente non rispondete facendo come loro, cioè mantenete basso profilo. Tipo, siete una squadra di M? Ma sì, ma non siamo una squadra di M, difendete sempre la vostra squadra, però col basso profilo. Ma no, io non penso siamo una squadra di M, però vediamo cosa dire al campionato, o giustamente non lo so, spero bene, io tifo Milan, vediamo come va, mi auguro il meglio, ma onestamente non me la sento di dare per sicuro nessun risultato. Questa è un'ottima strategia, perché non vi espone. Non potranno mai dirvi, ah ma tu hai detto, spero nel miglior risultato possibile del Milan. Mentre se vi esponete dicendo, ah noi vinceremo lo scudetto al posto vostro, eh no, allora passate dalla parte del torto. Quindi seconda regola, mantenere un basso profilo. Terzo, e questa è la chiave perché li caricate a palla, no? Perché poi alla fine c'è la cosa bella. Assecondateli, cioè solo dicono, l'Inter è fortissimo, ma sì, è una gran bella squadra, boh non lo so, effettivamente potrebbe darsi che siate favoriti, stiamo a vedere, e io penso al Milan, vediamo come va il Milan, effettivamente siete forti, gonfiateli, perché poi quando esplodono fa più rumore, bisogna farli gonfiare, 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 quindi assecondateli, ok? Quindi terza regola, prima non incazzarsi, seconda, basso profilo, terza, assecondare, ok? Tacitamente, assecondare, sì sì sì, vincerete voi, va bene, va bene, va bene, accoglieremo le briciole, bla bla bla. E qua arriva il bello, l'ultima, quando è il momento, vendicatevi, con ironia. Laddove può effettivamente l'Inter, pensate al derby, il derby, eh, gli stuggiamo, nominiamo, qui, ah, un mio collega, che magari mi vedrà in video, prima della partita colmine, diceva, ma io non mi riterò una sconfitta se non vinciamo con almeno due gol di scarto su voi. E ho detto, sì, vedremo, non lo so. Ragazzi, quando poi l'Inter ha perso, era su tutte le furie, io non ho, qualche scherzetto poi l'abbiamo fatto ed era oggettivamente una goduria infinita. Bisogna dopo andare a vendicarsi, cioè stuzzicali, ma allora, ma non dovevi vincere con due gol? Senza andare a, in maniera cattiva, però è ancora peggio, perché è stata in maniera cattiva, poi magari è scatta la rissa, non, non si sfogano, magari incazzano. Infatti, sempre i santarelli, ma con la faccia da culo, chiaramente. Ma allora, ma l'Inter, ma non erano i fenomeni? Ma dove sono questi fenomeni? Ma boh, quindi, la chiave finale è vendicarsi con l'ironia e infacciando tutte le cose che hanno detto che è la cosa peggiore, perché non possono attaccarvi da nessun punto, perché voi siete stati impeccabili. E poi vi riprendete la rivincita. Per chiudere questo video di strategia, di strategia di interazione con i tifosi delle squadre opposte, generalmente però per lo più interisti, perché hanno questo fare, o i gufacci. Ah, i gufini, naturalmente, in questo caso vi state facendo voi. Voi con questo approccio vi gufate l'Inter, naturalmente, perché siete sì, sì, l'Inter vincerà. E beh, quello è un gufaggio top. Quindi, conoscere questa strategia vi metterà anche in difesa nel riconoscere eventuali gufi, no? Noscete Ipsum, diceva Socrate. Quindi, se conosci il gufaggio, poi sai riconoscere un potenziale gufo. concludo questa disquisizione di alto livello con una frase tratta dal libro, aspettate che la vado a ripescare, tratta dal libro L'arte della guerra di Sun Tzu. Sun Tzu era un generale cinese vissuto tra il VI e il V secolo a.C. Ebbene, la frase, secondo me, è perfetta per la chiosa di questo video. Il meglio del meglio non è vincere cento battaglie su cento, bensì sottomettere il nemico senza combattere. Vi saluto.